Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna per lavori si segnala la chiusura delle corsie interne tra Firenze Sud e Firenze Scandicci e la presenza di 7 km di coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta, code in uscita a Firenze Impruneta provenendo da Bologna. In A11 si è verificato un incidente al km 10 tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. In A12 i rallentamenti tra Colle Salvetti e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. Possibili disagi per un incidente al km 199 tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione Sud. Sulla FIPILI per lavori tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina un km di coda in direzione Livorno e un km di coda in direzione Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!